Gesticolare per noi siciliani è un modo per parlare, per esprimerci, basta a volte anche solo il movimento della mano per indicare un qualcosa. Questo gesticolare però agli stranieri sa di folclore. Luca Vullo invece ha spiegato, soprattutto agli stranieri, ma anche forse non solo a loro, anche agli italiani, che non è solo folclore ma è proprio una lingua in codice. Sì, questa è un po' stata la mia missione sia con il film La Voce del Corpo ma poi soprattutto con tutta l'attività didattica che si è aperta dopo il mio trasferimento a Londra. E' quello proprio di dire, ok, tutti sanno che noi gesticoliamo tanto, però poco sanno che questo non è semplicemente uno stereotipo ma è una lingua, è una grandissima capacità comunicativa per esprimere i nostri sentimenti, concetti, contenuti eccetera, ma non solo nelle mani, anche nelle espressioni facciali, in tutta la combinazione tra i due elementi, è una vera e propria grammatica e su questo siamo uno dei popoli più straordinari al mondo, per cui dovremmo andarne orgogliosi piuttosto che, come dire, vergognarci di uno stereotipo visto male dagli altri. E ci è voluto una docu fiction per spiegare questo, un lavoro che in pochi avevano capito, tanti avevano snobbato, ma che è diventato anche il cavallo di battaglia che ti ha portato nelle migliori università dell'Inghilterra. Sì, direi che sicuramente quando c'è un'idea forte di base si riesce anche ad essere, come dire, multitasking, cioè andare da un documentario a finire come insegnante nelle università, in teatro come spettacolo, in televisione come consulente eccetera, ti fa capire che c'è anche dietro una mia capacità di vedere quel prodotto non soltanto come un film, ma come una ricerca che ho fatto valida per diversi livelli. Quindi comunque la gestualità è talmente vasta e interessante che non si poteva fermare soltanto in un film. Il film è stato lo strumento che mi ha permesso poi di andare in giro per il mondo a dire, signori, scusate, ma noi siamo super dotati. E la gestualità non poteva essere non di Luca Vullo perché in un minuto e mezzo di intervista ha fatto centomila gesti, che potevamo quasi quasi parlare anche a chi non sente, no, il linguaggio dei segni. Veniamo un po' al tuo escursus, diciamo, di successo. Dopo la voce del corpo che ci voleva arrivare all'Istituto di Cultura Internazionale per essere notato, adesso un altro lavoro in programma con Influx. Perché ci voleva quest'altro lavoro? Quanto meno non è solo made in Italy, ma è made in Italy quest'altro lavoro. Quindi ci spostiamo un po' più oltre gli orizzonti della Sicilia. Beh sì, in realtà non è il mio primo lavoro sull'emigrazione perché nel 2008 uscì un documentario, che è uno dei miei documentari più importanti, che si chiama Dallo Zolf al Carbone, sull'emigrazione dopo la Seconda Guerra Mondiale, sul patto Italo-Belga del 1946, e quello fu tutto quasi interamente girato in Belgio. Questo è come dire un secondo passaggio dove all'epoca non ero migrante, ero migrante in Italia. Quindi vivevo a Bologna, quindi ero un emigrato in Italia, mentre adesso sono un emigrato in Inghilterra, tra l'altro in una situazione che dopo il Brexit è veramente interessante, perché sono un comunitario all'interno di un paese extracomunitario, però comunque sono uno straniero. E quindi l'ho vissuta in prima persona e ho sentito l'esigenza, vedendo la quantità di italiani presenti a Londra, praticamente la città più colpita dal fenomeno a livello europeo, ho sentito l'esigenza di continuare il percorso e dire è la nuova contemporanea emigrazione? Com'è rispetto alla precedente? Noi facciamo parte di questa nuova fase storica e quindi ho risultato importante fare questa analisi degli italiani tramite lo sguardo di tantissimi italiani presenti a Londra, tutti con esperienze di vita differenti, però per fare un'autoanalisi collettiva. Ed esce fuori un quadro molto interessante del nostro paese e del nostro popolo. Grazie. 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 Grazie.